Terzo capitolo. Diana. Sono davanti allo specchio. Studio il mio viso come se non l'avessi mai visto. Mi sono alzata due ore prima, perché l'ansia non mi faceva dormire. Devo essere perfetta, almeno il primo giorno. È un rito, sin da quando sono piccola. Il primo giorno di scuola devo essere impeccabile. I vestiti migliori, i capelli perfetti, il mio zaino preferito. Se c'è una cosa che ho imparato da bambina è che non è vero un cazzo che le apparenze non contano. La prima impressione è tutto, e io lo so bene. Ho sempre creduto che questo fosse il modo migliore per combattere i pregiudizi. Eppure ho come la sensazione che non faccio è che lasciartene altri addosso. Studio il mio volto, alla ricerca di brufoletti da scoppiare e coprire con un po' di correttore. Praticamente l'unico tipo di trucco che mi permetto di usare. Rossetti, smalti, mascara, non fanno per me. Lo stomaco è chiuso da ieri. Sono quasi sei anni che non mi sentivo così. Una scolaretta impasto agli squali. Sospiro. lancio un'ultima occhiata allo specchio e mi decido a uscire. Sono le nove del mattino, ma l'aria fresca di inizio ottobre comincia già a farsi sentire e, come al solito, mi sono vestita troppo poco. La metro, però, è affollata. E subito ringrazio la me stessa che ha deciso di indossare una maglietta a maniche corte. Si soffoca e io non sono abituata. Quando andavo al liceo, il massimo storico che avrà fatto il mio autobus sarà stato di venti persone, inclusi controllori e autista. Nonostante mi sia svegliata due ore prima, mi sento terribilmente in ritardo. Non voglio entrare nemmeno un minuto dopo l'inizio delle lezioni. Non il primo giorno, almeno. Controllo l'orologio ogni centoventi secondi, sperando rallenti. Non credevo di metterci tanto. A casa il tragitto durava poco più di un quarto d'ora e la mia scuola era dall'altra parte della città. Mi sorprendo di nuovo a paragonare la mia vecchia vita a quella nuova. Ci sono certe cose di cui non riesco proprio a capacitarmi, ma so che dovrò farci l'abitudine. La metro affollata, le file interminabili al supermercato, il traffico impossibile. Sembravano solo cliché quando ne sentivo parlare, eppure tutto è diventato reale. Quando finalmente riesco a raggiungere l'aula, sono in anticipo di tipo 30 secondi. Con il fiatone apro la porta. Una ventina di persone si gira a guardarmi per una frazione di secondo. Probabilmente sono stati solo distratti dal movimento, ma questo basta a farmi cadere in uno stato di imbarazzo totale. Mi sento accaldata, e non solo per la corsa. Occhi a terra, trovo un posto nell'ultima fila e mi siedo, cercando di fare meno rumore possibile. Mi concedo solo pochi secondi per dare un'occhiata all'aula. Non è affatto come me la immaginavo. Nei film, le aule universitarie sono sempre immense e piene di studenti. Banchi stretti e ravvicinati in legno, tutti disposti ad altezze diverse. La mia, invece, è piccola, con la solita cattedra da liceo e una trentina di sedie, di fronte a uno schermo per proiezioni. Non che mi dispiaccia, è tutto più intimo e mi fa un po' meno paura. Ma non è di certo come me l'aspettavo. Una cosa è subito chiara. La lezione non inizia mai quando dovrebbe. Le persone in ritardo sono quasi più di quelle in orario. Non riesco a capacitarmi di come qualcuno possa arrivare in ritardo il primo giorno. Nell'attesa che la lezione cominci, un po' per passare il tempo, un po' per paura di socializzare, apro Instagram per guardare le ultime stories. Mi concentro particolarmente su quelle di Ellie Hills, una delle mie youtuber preferite. Scorro avanti e indietro e sbircio la ragazza nelle foto. Sembra così contenta, così libera. Ti piace Ellie Hills? Alzo la testa di scatto. Di fianco a me si è seduta una ragazza dai lunghi capelli neri e gli occhi verdi. Quando è arrivata? Come ha fatto a essere così silenziosa? Ehm, sì. La conosci? Chiedo confusa. Che domanda stupida. Ovvio che la conosce, idiota. La ragazza piega la testa da un lato. Ma certo. È una delle migliori, secondo me. Completamente fuori di testa. Faccio un sorriso educato. Non sapendo bene cosa dire. Già. Io ho preso ispirazione da lei. Spero di arrivare ai suoi livelli un giorno. Ma credo che rimarrà solo un sogno. Una lampadina si accende nella mia testa e la scruto con un'espressione indecifrabile. Fai… fai la youtuber. La ragazza scoppia a ridere. Probabilmente per la mia faccia sconvolta. Devo sembrare proprio una scema per farla ridere così. Sì, ma non credere. Niente di che. Ho cominciato da poco. È per questo che ho scelto la scuola di cinema. Mi piacerebbe unire le mie due passioni. Cioè? La ragazza fa un sorriso confuso, poi con un gesto ampio indicando l'intera aula e se stessa. Il cinema e il web. Mi do mentalmente della cretina. Sì, giusto. Per fortuna il mio angelo custode, che di solito è in vacanza a Onolulu a sorseggiare qualche cocktail analcolico, sembra risvegliarsi, perché un uomo sulla quarantina in piedi vicino alla cattedra si schiarisce la voce, ponendo fine alla nostra conversazione. Il prof annuncia l'inizio della lezione salvandomi dall'imbarazzo più totale. Due ore sono volate. Sono semplicemente entusiasta. Mi sembra di aver buttato via cinque anni a seguire noiosissime e inutili lezioni e di essere entrata ufficialmente nella scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Con un sorriso ebeti sul muso cammino verso lo metro, le cuffiette nelle orecchie. Mi sento quasi in uno di quei video musicali, avete presente? Con il sole del primo pomeriggio che batte sulla mia pelle e gli uccellini che mi indicano la strada. Sono talmente assorta nei miei pensieri che, quando sento una mano toccarmi il braccio, per poco non ci resto secca. Mi volto ed è di nuovo lei, la ragazza dagli occhi verdi e dai capelli decisamente troppo lunghi per la sua altezza. Mi dice qualcosa, ma ho la musica troppo alta per sentirla. Mugugno, levandomi uno degli auricolari. È un grande gesto di rispetto questo, non lo faccio mica per chiunque. Dicevo che mi chiamo Chiara, non ci siamo presentate prima. Oh, sì, hai ragione, scusa, sono Diana. Chiara annuisce e resta in silenzio, senza portare avanti la conversazione e lasciandomi in un totale senso di imbarazzo. Per quanto mi sforzi, non riesco proprio a pensare a qualcosa di intelligente da dire. Chiara continua a camminare con me e non sono sicura di esserne felice. Vorrei rimettermi la cuffietta, ma mi sembra maleducato. Dopotutto potrebbe nascere una conversazione. Forse. O forse no. Interessante la lezione. Non credevo che mi sarebbe piaciuta così tanto. Pensavo fosse più noiosa l'università. Per fortuna è lei a riprendere la conversazione. Le parole scampato pericolo si ripetono come un mantra nella mia testa. Sai che ho pensato la stessa cosa. In tv la fanno sembrare molto più lunga e seria. Io mi sono quasi divertita. Assolutamente. Poi il prof è un figo allucinante. Pronunciando queste parole, Chiara si volta a guardarmi con un risolino complice. Cercando conferma. Io ricambio con un sorrisetto imbarazzato senza saper bene cosa dire. Non voglio che la conversazione muoia di nuovo, ma non ho proprio idea se il prof è o meno un figo allucinante. Si deve far caso a queste cose, di solito. Sì, infatti. Tento di rispondere. Incerta. Chiara, però, non è convinta. Mi lancia un'occhiataccia interrogativa. Poi se la ghigna compiaciuta e si volta ad ammirare gli alberi del parco che stiamo costeggiando. Senza più tornare sull'argomento. Ho detto qualcosa che non va. Ciao, sono a casa. Nessuna risposta. Forse Arianna e Luca sono ancora a lezione. Meglio così. Almeno ho il tempo di cucinare qualcosa da mangiare per tutti. Mi piace cucinare per le persone. Non che io sia chissà quale grande chef, ma è bello mangiare in compagnia il cibo preparato da me. Non cucino mai solo per me stessa. Piuttosto muoio di fame. È questione di principio. Appena metto l'acqua sul fuoco, la porta di casa si spalanca e una trafelata e gioiosa Arianna mi corre incontro. Mi sei mancata! Urla, lanciandosi a braccio aperto su di me. Non mi sorprende. Sono abituata al suo modo di fare. Scoppio a ridere e ricambio l'abbraccio, stringendola forte. Anche tu, ma ci siamo viste poche ore fa. Lo so, ma le lezioni sono una noia mortale senza di te. Mi manca la mia compagna di banco. Arrossisco e fingo di armeggiare con la pentola. Anche a me. Però è stata interessante la mia prima lezione. A te com'è andato il primo giorno? Arianna si butta sul piccolo divano del nostro salotto cucina sala da pranzo. Tira fuori il cellulare e si mette a digitare qualcosa mentre mi risponde. Bene, interessante. Non sono riuscita a conoscere nessuno di nuovo, però. Hai provato almeno a fare conversazione? Lei sbuffa, senza distogliere lo sguardo dallo schermo. Sì, certo, ma hanno tutti la puzza sotto il naso. Scuoto la testa, buttando un po' di sale nell'acqua. E tu? Hai conosciuto qualcuno? Ci metto un po' a rispondere. Sì, una di nome Chiara. Simpatica. Ha iniziato lei a parlare con me. Io non ci sarei mai riuscita. Le rispondo, girandomi e sollevando un sopracciglio. Lei ricambia con una smorfia. E com'è? In che senso com'è? Lei com'è? Alta, bassa, magra, bionda? Mi appoggio al ripiano della cucina. So pesando la risposta da darle, le braccia incrociate. Non so, non ci ho fatto molto caso. Ha i capelli neri, lunghissimi, e gli occhi verdi. Non li avevo mai visti così verdi, sai? Arianna torna a guardare il cellulare. Le mie orecchie iniziano a fischiare. Meno male che non ci hai fatto caso. Ribatte. Per poi lasciarsi sfuggire una risatina nervosa che mi mette a disagio. E non poco. Il fischio si fa più forte. Diventa quasi insopportabile. Me lo hai chiesto tu. Silenzio. Perché me lo hai chiesto? Arianna si concentra su di me per una frazione di secondo. Mi guarda dritta negli occhi. Non riesco a leggere in lei nessuna emozione. È totalmente impassibile. Il rumore mi martella le orecchie, facendomi salire tutto il sangue al cervello. Bolle. Cosa? L'acqua. Bolle. Mi volto appena in tempo per spegnere il fuoco prima che il contenuto della pentola strabordi. Il rumore si interrompe quasi immediatamente. Ari sta di nuovo fissando il cellulare. Come se niente fosse. Luca e Arianna sono seduti al tavolo e mi raccontano il loro primo giorno di università. Luca è entrato alla facoltà di medicina, con sorpresa di tutti. Nessuno si aspettava che passasse il test. Arianna, invece, ha scelto veterinaria. Non sono proprio la stessa cosa, ma sicuramente più simili tra loro della mia facoltà. A meno che io non voglia fare un film sulla medicina o una serie sui veterinari. E poi che bello è non avere compiti da fare. La sola idea di avere il pomeriggio libero mi dà un sollievo, afferma Luca, masticando con gusto il suo boccone di pasta al pomodoro. Innanzitutto non voglio vedere cosa stai mangiando, grazie. Secondo, anche se non hai compiti per il giorno dopo, avrai un esame da fare. Vuoi ridurti all'ultimo come facevi al liceo? Guarda che non ci sono più io a pararti il culo. Ridò le parole di Arianna, ricordando quando, il giorno prima di un'interrogazione, ci riunivamo a casa sua per una sessione di studio matto e disperatissimo. Quasi sempre quello disperato era Luca. Ad Arianna toccava la parte della matta. Ma va, inizio un paio di settimane prima dell'esame e via, ce la faccio. Arianna sbuffa e si volta verso di me, scuotendo la testa. Io le do una pacca sulla spalla, complice. Parlando di cose più interessanti, ho fatto amicizia con la più figa del corso. Ho notato che aveva una spilla dei Lakers sulla borsa, così le ho chiesto se le piacesse il basket e lei mi ha detto di sì. Luca sembra eccitatissimo. Ha un sorriso che va da un orecchio all'altro. Noi continuiamo a masticare, impassibili. Il suo sorriso si spegne, trasformandosi in un broncio. Mi versi l'acqua? Mi chiede Arianna, ignorandolo completamente. Ma non capite? È perfetta, è figa e le piace il basket. Siamo fatti l'uno per l'altra. Questo perché non ti ha ancora visto giocare? Dice Arianna a bassa voce, facendomi quasi strozzare dalle risate. Luca assume il suo solito muso da cucciolo bastonato. Le orecchie non tardano a diventare rosse. Cambiando argomento, per quanto sia interessante sentirti parlare delle tue ipotetiche future conquiste. Inizio io. Ipotetiche. Ribatte Luca alzando un sopracciglio, ma io lo ignoro. A proposito di compiti. A me ne hanno già dato uno, oggi. A lezione di sceneggiatura. Dobbiamo scrivere un cortometraggio o un documentario o qualsiasi cosa vogliamo, ispirandoci a una persona a nostra scelta. E tu ovviamente lo farai su di me, si inserisce Arianna, minacciandomi con la forchetta sporca di sugo. Luca batte una mano sul tavolo. Ma scordatelo. Io e lei siamo amici da più tempo di voi due. Ragazzi. Prova a calmarli. Inutilmente. Ti pare che si mette a scrivere un documentario sul suo ex? Io sono la sua migliore amica. Di cosa dovrebbe parlare? Di quante ragazze riesce a farti in un mese? Ragazzi. Come scusa? Almeno la mia vita è più interessante. Se dovesse scrivere qualcosa su di te sarebbe cosa fai durante il tragetto da casa tua all'ufficio dove lavora tua mamma. Ragazzi. Non è vero che faccio solo questo. Il mese scorso. Ragazzi. I due si voltano contemporaneamente. Confusi. Come se si fossero appena risvegliati da un brutto sogno. Per quanto io vi voglia bene, non scriverei mai un documentario su voi due. Abbiamo ammala appena vent'anni. Che razza di documentario sarebbe? Pensavo di scrivere qualcosa su mia madre. Occhiate complici. In silenzio. Poi riprendono a mangiare, fissando il piatto. Li osservo senza capire. Che ne dite? Chiedo, titubante. Arianna fassi con la testa. Mi sembra una buona idea. Glielo dirai? Ci penso. Perdendomi tra i rigatoni. Non ho più voglia di mangiare. No, pensavo di no. Non sarebbe spontaneo, altrimenti. Pensavo di fare qualche indagine su di lei per conto mio. Dovrebbero esserci dei vecchi documenti sul pc che mi ha regalato. Magari trovo qualcosa di interessante su cui lavorare. Luca fa cadere rumorosamente la sua forchetta, appoggiandosi allo schienale della sedia e tenendosi la pancia. Sono pieno. Grazie del pranzo, Diana. Fantastica, come sempre. Prendo il suo piatto e lo metto nel lavandino insieme al mio, iniziando a lavarli con le tazze sporche di caffè e latte. Di niente. Abbasso un po' il volume. Non voglio iniziare a litigare con i vicini prima di averli conosciuti. La musica rimbalza fra le pareti della nostra camera da letto. Finalmente ci siamo decisi a sistemare la stanza. Vogliamo attaccare foto, mappe dei nostri viaggi, locandine di film, poster. Vogliamo coprire ogni angolo del muro spoglio e, per farlo, Arianna sostiene che abbiamo bisogno di ritmo. Smettila di fare la caca sotto. Non ho messo nemmeno la cassa al massimo. Rilassati e dammi lo scotch. Arianna è in piedi sul suo letto. Sta attaccando delle nostre fotografie il più in alto possibile. Io ho sempre adorato le foto stampate. Quindi sono sdraiata pancia in su sul materasso, scegliendo gli scatti con cura e passandole ai migliori. Ma sei sicura che non roviniamo la parete? Poi la padrona di casa ci fa pagare i danni. Arianna sbuffa, saltando sul pavimento e venendo a sedersi a pochi centimetri da me. La smetti di preoccuparti. Se si rovina il muro lo sistema Luca. Che problema c'è? Faccio spallucce e prendo il cellulare. Ho ricevuto due messaggi su Instagram. Clicco sulla notifica e vedo che Chiara ha condiviso con me un post in cui Ellie Hills annuncia il suo nuovo video. Mi si accende una stellina del buon umore laggiù nel pancino, mentre osservo l'espressione felice della ragazza sullo schermo. Nulla sfoggia da Arianna, che si lancia su di me sbirciando il cellulare. Perché sorridi? Lei dà un'occhiata veloce al cellulare e subito la sua espressione cambia. Nuvole nere all'orizzonte, temporale in arrivo. È la Chiara di cui parlavi qualche giorno fa? Sento puzza di problemi, ma non riesco proprio a capire da dove provenga. Chiudo la chat velocemente, fingendo che non mi importi. Ahà, ha condiviso un post di Ellie. Rispondo con nonchalance, alzandomi e iniziando a mettere a posto la chilometrica pila di vestiti che si è formata sulla mia sedia. Come faccio ad averne ancora nell'armadio? Sono praticamente tutti lì. Arianna resta seduta sul letto a fissarmi. Il silenzio inizia a farsi insopportabile. Così comincia a canticchiare la canzone che la cassa sta diffondendo in quel momento. Già mi sostituisci? Domanda lei. Mi volto. Mi sta squadrando con un'occhiataccia più falsa di una moneta da tre euro. Che intendi? Chiedo, fingendo di non capire. Fingiti morta, fingiti morta, fingiti morta. Niente, sto scherzando, dai. Poi, ancora scura in volto, si alza e viene verso di me. Ancora non hai sistemato questo disastro? Sono giorni che ti chiedo di liberare la sedia. Ne abbiamo solo una qui. Non possiamo usarla come armadio. Il suo tono è improvvisamente più duro e io non so come risponderle. Questo cambio di umore mi lascia spiazzata. Fino a pochi istanti prima urlava e ballava saltando sul letto. Scusa. Sistemo subito. Rispondo dopo un po', cominciando a mettere in ordine. Arianna sbuffa rumorosamente, iniziando anche lei a tirare giù i vestiti dalla sedia, con scatti nervosi, infastiditi. Non si tratta di sistemare, Diana. Non è possibile arrivare a fare questo casino. Non è che perché sei sempre all'università puoi lasciare la merda in camera, ti pare? Spalanco la bocca. La situazione sta precipitando e io non ho idea di cosa sia appena successo. Mi dispiace. Non credevo ti infastidisse tanto. Volevo farlo ieri, ma sono rimasta in uni un po' di più e... Certo, perché chi se ne frega della casa. Sei sempre in uni, rimani sempre qualche ora in più, cosa te ne frega? Tanto qui ci siamo io e Luca a pulire e sistemare. Oramai Arianna sta praticamente urlando. Non so come calmarla. Indietreggio leggermente, quasi spaventata. Ma se Luca a malapena esce dalla sua stanza e l'ultima volta che ci sono entrata era radioattiva. Cosa cazzo c'entra? Almeno lui è a casa ogni tanto. Sì, quando non è in giro a scopare con ragazze a caso. Io rimango in università solo per studiare. Si può sapere che cazzo ti prende. Arianna inizia a lanciare i vestiti accatastati sulla sedia. Io rimango immobile, fissando inerme le mie felpe, t-shirt e pantaloni che vengono scaraventati sul pavimento. Tanto erano tutti da lavare. Mi prende che tanto non te ne frega mai un cazzo! Urla, per poi uscire dalla stanza sbattendo la porta. Resto sola, al centro della camera. Attorno a me i miei abiti stropicciati ancora più sporchi di prima. Suoni distorti dalla cassa ormai scarica. Muore anche lei in dieci secondi. Silenzio. Arianna è uscita da diverse ore ormai. La camera è pulita e ordinata. La montagna di roba sulla sedia è scomparsa. I vestiti che aveva usato come arma contro di me sono al sicuro nel cesto della biancheria. I poster e le foto sono perfettamente attaccati al muro, in un ordine quasi maniacale. Sto ancora pensando alla sua reazione. Non è la prima volta che litighiamo, ma mai per un motivo così stupido. Lei ha sempre saputo del mio piccolo problema con il disordine. Non ne ho mai fatto un mistero. E ci ha sempre riso su. Ma una scenata del genere proprio non me l'aspettavo. Mentre metto a posto anche i suoi vestiti, mi chiedo se il problema non sia qualcos'altro. Ha cambiato umore nel momento in cui abbiamo nominato Chiara. Ma perché ce l'ha tanto con lei se nemmeno si conoscono? In realtà, una risposta a questa domanda ce l'ho, ma mi sembra assurda, insensata, stupida. Quindi decido di lasciar perdere. D'improvviso, la porta si spalanca. Sussulto, colta di sorpresa. Una Rihanna con il mascara sciolto sotto gli occhi mi fissa con un musino triste e pentito. Io piazzo le mani sui fianchi, in attesa. Nessuna delle due vuole fare la prima mossa. Siamo entrambe ancora arrabbiate, ma lei sa di non esserlo con me. Non è mai con me che è arrabbiata. Sono le circostanze. È sempre colpa delle circostanze. Stanca di questo silenzio deteriorante, apro la bocca per parlare. Ma improvvisamente Rihanna si muove. Non verso di me. Si trascina verso la cassa ormai spenta. Prima il tasto dell'accensione, ma non succede nulla. Prova più volte, finché decido di avvertirla. È scarica. Mi concede un secondo, gli occhi lucidi. Poi torna a fissare il pavimento e attacca la cassa alla presa di corrente. L'accende e in un attimo l'ultimo CD degli Imagine Dragons rimbomba a palla. Prende il cellulare e digita qualcosa. Pochi istanti dopo la musica cambia. I brani rock-pop carichi di grinta vengono sostituiti da una playlist più lenta. Malinconica. Che cavolo sta facendo? In quel preciso istante, Rihanna vede la stanza per davvero. La sedia ormai vuota. Le foto appese in maniera perfetta, i suoi vestiti piegati e riposti nell'armadio ancora aperto. Dopo aver passato in rassegno a ogni angolo, torna a guardarmi. Io non ho smesso di fissarla per un solo istante. I nostri occhi si incrociano e non ce la faccio più a trattenermi. Una lacrima riesce finalmente a liberarsi, ad attraversare la mia guancia e a precipitare rovinosamente sullo scendiletto lavato da poco. Una nuova canzone comincia a suonare e noi non possiamo fare a meno di abbracciarci. Can I Have This Dance? Uno dei brani più romantici della nostra infanzia, direttamente da High School Musical 3, il film più bello e maledettamente sdolcinato che qualsiasi ragazzina di undici anni potesse mai vedere e rivedere fino alla nausea nel lontano 2009. Io inizio a canticchiare le parole, ricordando la famosa scena in cui Troy, il ragazzo più fico della scuola, chiede a Gabriella, altra ragazza stratosferica, di ballare con lui. Arianna è felice tra le lacrime e anche lei comincia a cantare, lasciandosi trasportare da una musica che ormai entrambe conosciamo a memoria. D'un tratto, la mia amica si lancia verso di me, cantando le parole di Gabriella e prendendomi la mano. Io rido stringendo le sue dita e rispondo cantando la parte di Troy, proprio come facevamo da piccole. In un attimo siamo strette, abbracciate, balliamo e cantiamo a scorciagola le parole di quella canzone così stupida e romantica che dopo tanti anni ancora ha il potere di riportarci in un luogo che appartiene solo a noi. Senza smettere di cantare salgo in piedi sul mio letto, impugnando la spazzola come un microfono e pergendo la mano ad Arianna. Lei la afferra e la tiro su con me. Siamo di nuovo faccia a faccia e urliamo l'ultima strofa del ritornello occhi negli occhi, le mani annodate e il fiato corto. Quando la canzone finisce, entrambe scoppiamo in una risata incontrollabile, buttandoci a pancia in su sul letto. Ci manca il respiro. Poi, finalmente svuotate, restiamo a contemplare il soffitto. La cassa continua a riprodurre musica dalla playlist depressa di Arianna, ma nessuna delle due ci fa caso. La sappiamo ancora tutta a memoria, fa lei dopo un po'. Ma se hai sbagliato almeno la metà delle parole. Riesco a schivare il suo cuscino per un soffio. Pessimo lancio. Restiamo in silenzio un altro po', cercando di calmare i battiti ancora accelerati per via della nostra incredibile performance. Scusa per prima, ho esagerato. Ero stressata. Annuisco, anche se non sono sicura che Arianna mi veda. Ok, che succede? Nulla. Inizio a sentire il peso di vivere senza mamma e papà. Tu no? In realtà, mi serviva a staccare un po' da mia madre. Così lontana non mi sento controllata. È una bella sensazione. Lei annuisce, senza aggiungere nulla. C'è dell'altro? Chiedo io dopo un po'. Lei si gira verso di me per la prima volta da quando stiamo parlando. L'università non è come il liceo. Rido, guadagnandomi un'occhiataccia. Beh, è normale che non sia il liceo. Altrimenti si chiamerebbero uguale, tesoro. Non è questo il punto, idiota. Intendo dire, non è facile come fare amicizia al liceo. Lì eravamo in venti in un'aula di pochi metri quadri. Dovevi per forza legare. Questione di sopravvivenza. Noi siamo centocinquanta in un'aula grande quanto la nostra vecchia scuola. Come si fa a conoscere persone? Non hai ancora fatto amicizia con nessuno. Effettivamente, l'ho sempre sentita parlare di lezioni e professori, ma mai di compagni di corso. Non ci avevo fatto caso. Che stupida. Arianna scuote la testa, presa male. Non sono così simpatica. Sbuffo, restituendole con un lancio perfetto il cuscino e colpendola dritta in faccia. Smettila. Devi solo superare la timidezza. Se non ci parli con le persone, come fanno a sapere che sei super simpatica. Arianna resta con il cuscino sul viso, le braccia incrociate dietro la testa. La verità è che manchi tu. Non è lo stesso senza di te. Non troverò mai un'amica come Telly. Che senso ha allora? Le parole sono soffocate dal cuscino, ma riesco a sentirle come se le stesse urlando nel mio orecchio. Il respiro si spezza. Il battito accelera di nuovo, come se non avessimo mai smesso davvero di ballare e cantare. È per questo che prima te la sei presa tanto. Credi che io stia meglio nella mia nuova scuola senza di te? Arianna annuisce e io potrei giurare di aver sentito un singhiozzo. Mi avvicino lentamente e con delicatezza le tolgo il cuscino dal volto. Mi manchi ogni giorno, cogliona. Arianna fa una risata timida, ricacciando indietro le lacrime e spingendomi via. A proposito di tua madre, l'hai sentita poi? Inizio a torcermi le mani. Sì, mi ha chiamato un paio di settimane fa. Arianna annuisce, mordendosi la lingua. Poi scatta in piedi. Muoio di fame. Merenda? La preparo io. Vorrei solo dormire, perché il mio cervello non si spegne. Sono le due del mattino e non faccio altro che rigirarmi nel letto. Nonostante sia quasi novembre, il caldo soffocante non ha abbandonato questa casa e io non riesco proprio a liberarmi da questa sensazione. Sento l'aria che manca, la testa pesante. Gli occhi vorrebbero solo chiudersi, ma per qualche strano motivo non riesco a superare questa maledetta insonnia. Dov'è il cellulare? Forse sto per addormentarmi. Mi giro. Appaggio il telefono. Mi rigiro. Niente. Lo riprendo, messaggio un po' con Chiara. Forse sto di nuovo per abbioccarmi. Sto a pancia in su. Lo metto via di nuovo. Mi rigiro. Ancora niente. Ormai è così da due mesi. Non ricordo l'ultima volta che sono riuscita a dormire per davvero. Il problema, invece, è che me lo ricordo benissimo. La prima notte che ci siamo trasferiti, quando mi sono infilata nel letto di Arianna. Ma è stato così imbarazzante scoprire che se ne raccorta. Cosa avrebbe potuto pensare di me? Che sono pazza, senza dubbio. Mi volto verso il letto di Arianna, che, come al solito, dorme peata, la bocca leggermente schiusa. La litigata di oggi forse ci ha fatto bene. Sono riuscita a scucirle qualcosa, almeno. Dopo un po' inizio a fissare il soffitto. Mi dispiace sapere che non riesce a fare amicizia, però provo un disgustoso senso di piacere sapendo di mancarle così tanto. Mi sento cattiva. Sporca. Come se la stessi tradendo, ma è così e so di non poterci fare niente. Penso a tutti i pomeriggi passati insieme a studiare, a casa mia. La invitavo sempre, quando mia madre era fuori per lavoro. Cioè, tipo ogni pomeriggio. A me non faceva che bene avere qualcuno con cui studiare. E ad Arianna non dispiaceva affatto sfuggire ai suoi genitori, almeno per qualche ora. Per quanto lei non lo volesse ammettere, sapevo benissimo che faceva fatica a sopportarli. Ma era troppo buona e ubbidiente per confessare una cosa del genere. La osservo di nuovo e, con un coraggio che faccio davvero fatica a capire da dove arrivi, mi alzo decisa e mi infilo nel suo letto senza esitazione. Per poi pentirmene una frazione di secondo dopo. La mia irruenza, infatti, l'ha svegliata. Eccola qui. Ha un centimetro dalla mia faccia. Strizzo agli occhi nel buio, cercando di capire che cosa stia succedendo. Diana? Sbuffo, cercando di trattenere le risate. No, cappuccetto rosso. Chi vuoi che sia, idiota? Il sarcasmo mi sembra l'idea migliore per distrarla dal fatto che mi sono appena infilata, non molto di soppiatto, nel suo letto. Riesco quasi a sentire il mio angelo custode ridacchiare sputando popcorn. È stato lui a tenermi sveglia. Me lo sento. Maledetto. «Ok, ma io non sono la tua nonnina, quindi se vuoi dormire qui, non robarmi le coperte, stronza». Biascica con voce assonnata. Per poi tirare a sé il piumino. Ride. Sorrido scuotendo la testa. Delicatamente, stavolta per davvero, scivolo giù, all'altezza del suo volto, sistemandomi con cura sotto le coperte. Arianna è divertita, ma presto le sue labbra si deformano in uno sbadiglio. «Oh, non ti sei lavata i denti prima di metterti a letto, signorina?» Scherzo, sventolando una mano davanti al naso per prenderla in giro. Arianna mi tira un pugno, ma, gracielina com'è, sembra quasi una carezza. «Idiota, è l'odore del sonno. Sai com'è, io, la notte dormo. Anche lei cerca di prendermi in giro, ma colpisce dritta nel segno. Troppo nel segno. Già, lei, la notte dorme. Ehi, scherzavo, cogliona. Cerco di rimediare, ma nemmeno l'insulto sembra migliorare la situazione. Strano. Ma hai ragione, dovrei dormire. Non riesco, è frustrante. Arianna afferra il mio viso da sotto il mento, costringendomi a guardarla. «Cosa c'è che non va? Mi manca casa». Sento la mia voce spezzarsi mentre pronuncio queste parole. Anche il mio angelo custode ha smesso di fare il furbo. «Tesoro», dice Arianna con una voce dolce e rassicurante, poggiando una mano sul mio viso e accarezzandolo teneramente. «Anche a me a volte manca casa, ma pensaci un attimo. Che figo è vivere da soli. Stai inseguendo il tuo sogno. Non è questo che conta davvero». Annuisco, tirando su col naso. «Sì, però a volte fa paura». «Cosa fa paura?» La luce della luna filtra tra le tende e la cosa mi fa stare un po' meglio. «Le cose grandi. Non ti sembra tutto così grande. Anche tu sei grande adesso». «Non abbastanza. Vorrei essere grande come te». Sussurro. «Ora è lei che sbircia la finestra. Abbiamo la stessa età, scema!» Annuisco, tornando a spiare la notte insieme a lei. «Sì, hai ragione. Abbiamo la stessa età». «Restiamo in silenzio per un po'. La luna è bella da morire. Forse non è vero che abbiamo la stessa età. Penso che dovrei dirglielo, ma, mentre sto per farlo, sento il respiro di Arianna che si fa più pesante e le sue mani che stringono l'orlo del mio pigiama. Lentamente mi giro verso di lei. Mi sistemo più vicina, facendomi piccola piccola per incastrarmi perfettamente con il suo corpo. Arianna però si muove, pietrificandomi per un istante. Sono sicura di averla svegliata. Invece lei, a occhi chiusi, mi stringe forte a sé, immergendo il viso fra i miei capelli. «Quando non riesci a dormire, sei la benvenuta qui. Non sarò casa, ma spero di farti sentire al sicuro almeno un po'. Anche se non ci crederà mai. Lei è più casa di quanto possa immaginare». Il mattino dopo sono sola nel letto. Il lenzuolo è freddo, il che vuol dire che Arianna deve essersi alzata da un po'. Butto un occhio in giro, chiedendomi dove possa essere finita, ma, a meno che non salti improvvisamente fuori dall'armadio o da sotto il letto urlando «Sorpresa!», dubito che sia da qualche parte nella stanza. Poi un profumo di pancake raggiunge le mie narici, e in pochi istanti guadagno la forza per alzarmi e correre in cucina. «Buongiorno!», la saluto, felice di vederla. «O di vedere i pancake». Lei si volta. «Ciao, alla buon'ora!» «Ehi, è domenica, potrò svegliarmi all'ora che voglio, visto che stanotte ho fatto tardi a causa di una certa persona». Rispondo in tono complice. «Marianna non dà segno di avermi sentita e continuo a cucinare fischiettando qualche canzone». «Luca?», chiedo dopo un po', arrendendomi. «Dorme. Ti pare che si alzi prima di pranzo?» Sghignazzo in maniera un po' troppo fragorosa per quella che non doveva nemmeno essere una battuta. Quando noto che sono l'unica a ridere, mi zittisco immediatamente, fingendo un colpo di tosse. «Grazie per stanotte, comunque». «Cosa?», chiede Arianna distratta mentre gira il suo pancake perfetto. «Per... per avermi aiutato. Erano diverse notti che...» «Pancake pronti per essere serviti! Nutella sciroppo d'acero!», mi domanda, voltandosi con un piatto pieno di delizie. Apro la bocca per dire qualcosa, ma capisco subito che non servirebbe niente. Che cavolo ho fatto di sbagliato?